Alberto Stefanelli, studioso di sistemi elettorali, che cos'è l'Italicum che tanto fa discutere? L'Italicum è la legge elettorale che stiamo approvando appunto in Parlamento, è una legge proporzionale che andrà a sostituire l'attuale legge elettorale ma che ha la caratteristica molto particolare di entrare in vigore solo nel luglio, il primo luglio 2016. Questo perché? Perché sarà una legge che è subordinata alla riforma del bicameralismo paritario che il governo Renzi appunto vuole superare e quindi è una legge che è rivolta a una sola delle due Camere che adesso abbiamo in Italia, cioè alla Camera dei Deputati. È una legge che appunto è proporzionale, quindi andrà a dividere il territorio italiano in 100 circoscrizioni, in 100 collegi e all'interno di questi 100 collegi ci saranno delle liste di candidati plurinominali nella quale si eleggeranno dai 3 ai 9 eletti. È una legge che appunto prevede l'utilizzo del voto di preferenza, cioè l'elettore potrà scegliere quali sono i candidati da mandare in Parlamento segnando il loro nome sulla scheda elettorale. In questo caso, a differenza delle altre leggi elettorali che abbiamo avuto fino adesso, le preferenze di esprimere potranno essere due, però la seconda preferenza è subordinata alla clausola di esprimerla per un candidato del sesso opposto rispetto alla prima preferenza. Il sistema di preferenze appunto permette quindi di costruire un Parlamento, a differenza della scorsa legge elettorale, scelto più dagli elettori e meno dai partiti, ma i partiti avranno ancora la possibilità di scegliere i capolista, che appunto sono capolista bloccati, che sta facendo tanto discutere sia le opposizioni parlamentari sia la minoranza d'Emma.